Due settimane dopo il Mugello torna la Formula 1 in Russia, Gran Premio di Sochi, nel circuito richiamato dal Villaggio Olimpico dell'Olimpia di Invernale 2014. Vince la Mercedes in questo Gran Premio di Russia, ma non vince Louis Hamilton, che non andrà a eguagliare dunque il record di Schumacher, quantomeno in questo Gran Premio, ma vince Valtteri Bottas, secondo Max Verstappen e terzo appunto Louis Hamilton, che nonostante non abbia vinto è di fatto il protagonista di questo Gran Premio, anche se quello che lo riguarda è accaduto prima della procedura di partenza e tra poco lo vedremo. È un podio monopolizzato ancora una volta dai tre principali driver di questo Mondiale, è un Mondiale che per la matematica è ancora aperto, ma per la storia dovrà aspettare il prossimo Gran Premio che sarà al Nürburgring, quindi tra due settimane, per sempre questa fantomatica 91esima vittoria di Louis Hamilton. Una vittoria che non è arrivata per un motivo alquanto strano, che però ha fruttato una marea di secondi di penalità. Qui vediamo Louis Hamilton prima che si schieri per il giro di ricognizione del Gran Premio di Russia e come vedete in alto sullo schermo c'è l'investigazione della direzione gara. In pratica il pilota inglese che cosa ha fatto? Invece che fare la procedura di partenza nella piazzola disegnata dalla direzione gara si è praticamente messo a bordo pit lane per provare questa manovra. Una manovra che è stata giudicata irregolare dalla direzione di gara ed è una manovra che Hamilton ha fatto più volte perché si è fermato due volte nell'arco di pochi metri. Una manovra che ha costato al pilota inglese 10 secondi di penalità e sono stati tantissimi e decisivi per non uguali al record di Schumacher in Russia e di fatto hanno condizionato la vittoria del pilota inglese. Una penalità che da esterno sembrava abbastanza opinabile, poi per fortuna in telecronica su Sky hanno spiegato i possibili motivi di questa penalità e la cosa si è risolta in maniera un po' più chiara. Certo dare 10 secondi di penalità per due errori che comunque lo sono è effettivamente un pochino troppo nel senso che se questo è il parametro per delle violazioni di regolamento ma comunque tecnicismi che non vanno a essere così gravi come magari un incidente causato apposta o cose più grave che succedono in pista appunto il metro è questo per uno qualcosa più grave effettivamente cosa puoi dare dai un minuto di penalità dai 30 secondi insomma è una penalità che effettivamente era eccessiva per quanto riguarda l'occhio esterno poi è stato spiegato è stato infranto il regolamento e la direzione gara ha giustamente applicato il regolamento ripeto se il metro è questo allora per un incidente grave che succede penalizzate un pilota di 40 secondi e fatelo partire ultimo al prossimo gran premio perché insomma c'è un po' da rivedere. Fatto sta che questa manovra fatta in pre partenza se così possiamo chiamarla ha condizionato la gara del pilota inglese che dunque non ha vinto e ha ceduto il passo al suo compagno di squadra Valtteri Bottas qui vediamo con il premio del vincitore e per lui suona il Maham il nazionale finlandese per la nuova volta in carriera. Bottas comunque ha fatto il suo si è trovato molto bene sempre sul circuito di lusso di Sochi ed è una vittoria comunque meritata perché al netto che Hamilton ha avuto la penalità Bottas ha incamerato una serie di giri veloci in continuazione di fatto pur partendo da terzo ha fatto un flag to flag nel senso che è arrivato fino in fondo gestendo la gara ha fatto il pit stop da primo ed è rientrato sempre da primo e ha gestito una gara che ovviamente in queste condizioni con la penalità di Hamilton era impossibile non vincere. La nona volta che Bottas vince una gara di Formula 1 e la seconda Sochi seconda vittoria dopo il 2017 ed è un po' il riscatto su questo circuito di Valtteri Bottas perché il pilota finlandese si riprende un po' quello che gli è stato tolto nel 2018 quando un plateale ordine di scuderia lo fece parcheggiare sempre in curva 13 qui in Russia per far vincere un Hamilton che anche in quel caso non si meritava la vittoria. È una vittoria Mercedes che matematicamente tiene aperto il campionato ma che di fatto rimanda l'appuntamento con la storia di Lewis Hamilton che in questo mondiale ha due principali interessi uno arrivare a 100 pole e l'altro ovviamente eguagliare e battere il record di Schumacher record che comunque batterà ed eguaglierà perché ovviamente il ritmo di Lewis Hamilton è impressionante rispetto agli altri piloti certo la penalità è opinabile perché ripeto non puoi dare 10 secondi di penalità comparando questo tipo di infrazione ovvero una mancata procedura a un incidente grave di gara però ripeto la direzione gara è lì e io sono qui sul divano a commentare a caldo il Gran Premio di Russia e andiamo a vedere quella che è la classifica del campionato perché appunto come dicevo ormai da un po' di gara a questa parte Verstappen, Bottas e Hamilton hanno di fatto monopolizzato i podi delle ultime competizioni tranne appunto quelli italiani dove è successo veramente il finimondo con questo terzo posto Hamilton va a 205 punti Bottas è sempre più secondi a 161 e Verstappen è terzo a 128 tutti gli altri sono come al solito after the music tant'è vero che il primo è Norris con 65 punti c'è l'atta diciamo per il quarto posto tra Norris Albon e Ricciardo gli altri piazzamenti di questo Gran Premio sono stati i seguenti quarta posizione per Sergio Perez alla sua ultima stagione con la macchina rosa è ufficiale tra l'altro che l'anno prossimo il messicano lascerà posto a Sebastian Vettel che oggi ha fatto ancora una volta una prestazione in colore con la Ferrari quinta posizione per Daniel Ricciardo per una Renault che da quando ha diciamo ripreso il campionato in Belgio si è dimostrata una macchina competitiva ed è probabilmente la terza macchina in pista al netto della Red Bull sesta posizione per Charles Leclerc con il 14 che ha ovvero la Ferrari di questo 2020 fa un sesto posto comunque dimostrando che evidentemente i problemi di Spa e Monza erano e sono superati certo è una macchina che Massimo può arrivare qui comunque tanto di cappello a Leclerc che fa sesto con una macchina veramente inguardabile settima posizione per Esteban Ocon l'altro pilota della Renault che comunque ancora una volta fa doppietta di vetture a punti ottavo posto per Daniel Chiat che comunque onora il gran premio di casa e fa ottavo posto nella sua soci nona posizione per l'altro pilota dell'Alfa Tauri ovvero Pierre Gasly e decima posizione per Alexander Albon che in qualche modo salva un punto ma Albon ha fatto veramente una gara in colore l'altra Ferrari quella di Sebastian Vettel ancora una volta e finisce dopo la musica tredicesima posizione per il quattro volte campione del mondo con la Red Bull e undicesimo purtroppo appena fuori dai punti Antonio Giovinazzi che si gioca il futuro della categoria nel senso che insieme a Magnussen e insieme a Grosjean sono i piloti che sono un po' più a rischio di non rimanere con un sedile l'anno prossimo si parla di inserire alcuni piloti della Drawer Academy della Ferrari dalla Formula 2 alla Formula 1 tra cui il figlio di Schumacher ma della Formula 2 ne parleremo dopo e Giovinazzi appunto insieme al danese e al francese è veramente a rischio l'anno prossimo per quanto riguarda diciamo la gara è una gara che appunto si è decisa purtroppo a tavolino prima della partenza per carità è interessante che non abbia vinto Hamilton ancora una volta ma si è dato un po' di spazio a Valtteri Bottas che comunque pur essendo una palese seconda guida i suoi podi li sta facendo e le sue vittorie comunque le fa Bottas dopo la partita di Hamilton ha comunque meritato di vincere perché i giri veloci con la gomma bianca all'ultimo giro non lo fai per caso seconda posizione per Mark Verstappen che sfrutta la posizione della qualificazione di fatto perché secondo è partito e secondo è arrivato e terzo Lewis Hamilton che appunto dopo la gara ha dichiarato poco e niente dichiarazione di circostanza senza andare nel merito su che errore è stato quello del pilota inglese che poi in realtà a dirla tutta quella della penalità del pilota inglese è un errore un po' congiunto perché è strano che secondo me è un pilota sei volte campione del mondo quasi sette che corre dal 2007 in Formula 1 è una squadra comunque seria e con la testa come merce disposta a peccare di così tanta sufficienza non so onestamente i motivi per cui hanno fatto scelte così discutibili non rispettare così platealmente comunque un regolamento seppur tecnicismo ma comunque presente è una cosa ripeto abbastanza strana se voi siete più esperti di me nel caso aspetto interessante le vostre opinioni è comunque un terzo posto che fa allungare ancora una volta Hamilton verso il settimo titolo del mondo e al Nürburgring quindi in Germania casa di Schumacher potrebbe eguagliare le 91 vittorie del pilota tedesco è stata una gara in realtà non bellissima il punto principale appunto è stato questa penalità di Lewis Hamilton discutibile anziché no tra l'altro è stata una gara abbastanza particolare da questo punto di vista perché è stata la gara delle commissioni di gara meticolose perché per esempio Daniel Ricciardo in un sorpasso su Ocon che l'ha palesemente lasciato passare aperta parentesi è stato penalizzato di ulteriori 5 secondi per aver tagliato di fatto il limite della pista e secondo la direzione gara aver avuto un vantaggio in curva 2 che è di fatto la prima staccata della Sochi Autodrome peccato che in realtà Ricciardo non abbia avuto così tanto vantaggio appunto perché A. Ocon l'aveva lasciato passare e B. Ricciardo è dovuto sfilare all'esterno perché Ocon non poteva di certo essere centrato per regolamento chi va fuori dalla pista in curva 2 deve fare uno slalom appunto in quella curva e rientrare dall'esterno cosa che ha provato a fare anche Carlos Sainz a inizio gara peccato che la McLaren di Sainz è andata a sbattere contro il muro e ha causato l'ennesima safety car in partenza ancora una volta è stato un max incidente che ha coinvolto da una parte il pilota spagnolo della McLaren ritirato e dall'altra Lance Stroll che è stato centrato comunque dall'Eclerc o comunque è stato un contatto con Charles Leclerc Lance Stroll voleva passare dall'esterno Leclerc ha appunto avuto un contatto con il pilota canadese che appunto si è schiantato a muro e ha detto addio alle speranze di punti in questa competizione parentesi pure sulla McLaren di Sainz abbiamo già detto che si è ritirato dopo 4 curve Norris gara orrenda 15esima posizione per il pilota inglese che rimane comunque quarto in campionato per una posizione che ovviamente non conta c'è comunque ripeto lotta tra Norris, Ricciardo, Leclerc e Albon che anche lui ha fatto una gara in colore driver del giorno e passiamo dunque ai miei riconoscimenti per pensare alla Formula 2 Valtteri Bottas secondo me si merita il mio titolo di driver del giorno perché ripeto al netto della penaltia di Hamilton ha meritato di vincere ha fatto tanti giri veloci ha condotto la gara ha fatto il pit stop da primo è rientrato da primo ed è un pilota che secondo me merita un po' più di credito di quanto non lo abbia in questo momento ripeto Bottas non sarà mai un campione del mondo per quanto mi riguarda a meno che non ha zecchia è comunque un buon pilota è una seconda guida e quando merita è giusto celebrarlo Valtteri Bottas è il mio driver del giorno la mia delusione però è il thailandese Alexander Albon perché appunto il thailandese veniva dai fasti del Mugello terza posizione per lui certo questa gara è partita indietro partiva 17esimo Alexander Albon peccato che con una Red Bull che è la stessa macchina di Verstappen fare decimo il tuo compagno di squadra è secondo insomma non benissimo mettiamola così prossimo appuntamento per quanto riguarda la Formula 1 sarà tra due settimane l'11 ottobre in particolare si correrà il Gran Premio del Nürburgring si torna dunque in Germania e vedremo se Hamilton arriverà alla 97esima bole in carriera e alla 91esima vittoria della carriera della Formula 1 passiamo alla Formula 2 e partiamo ancora una volta però dalla fine Formula 2 che ha corso a Sochi per prendersi una pausa di due mesi per tornare poi in Bahrain per fortuna i piloti della Formula 2 coinvolti in un grande incidente stanno bene qui vediamo la macchina di Luca Ghiotto che è una delle vetture coinvolte in questo grande incidente nella gara 2 di questa mattina un pauroso incidente nella curva 13 in pieno in velocità in Russia ha coinvolto Jack Heitken pilota del Team Campus e Luca Ghiotto pilota del Team Hightech Grand Prix Luca Ghiotto prova il sorpasso all'esterno sul pilota anglo-coreano il pilota anglo-coreano purtroppo stringe Luca Ghiotto verso l'esterno i due vanno al contatto si schiantano a una velocità supersonica e addirittura sulla macchina di Ghiotto di cui qui vediamo i resti vengono addirittura innescati dai principi di incendio per fortuna i piloti stanno bene qui li vediamo mentre hanno nella safety car gara che è stata interrotta al quinto giro per questo pauroso incidente gara che non verrà mai più ripresa per questa competizione ricordo stati dati i punteggi di Mezzati in un campionato di Formula 2 che vede il leader che è stato Mick Schumacher nella scorsa gara del Mugello allungare in testa al campionato perché il tedesco vince la prima competizione del sabato con una vittoria ampiamente meritata e allunga 191 punti in classifica seconda posizione per Yuki Tsunoda che evidentemente è ancora matematicamente in corsa per questo titolo anche se Schumacher in queste gare ha allungato terza posizione per Callum Milot che purtroppo subisce ancora una volta allungo di Schumacher Junior Schumacher Junior è il leader del campionato come vedete non è il pilota che ha vinto di più in questa stagione ma è un pilota oltremodo costante cosa che può premiare nelle categorie inferiori certo Schumacher non ha il talento di altri piloti più devastanti che sono passati in Formula 2 vedi per esempio Van Dorn vedi per esempio Leclerc e Russell che sono attualmente in Formula 1 mi ricorda molto Hubert come pilota Hubert era un pilota molto calcolatore un pilota che gestiva le gare e vi ricordo che Hubert prima di purtroppo passare a miglior vita e scomparire a Spaffran con Schamp ha vinto un GP di Formula 3 un campionato meglio di Formula 3 vincendo una gara soltanto e piazzandosi sempre nelle posizioni che contavano è un po' quello che capita a Mick Schumacher che ha avuto una seconda parte di stagione per il momento molto molto interessante la gara 2 invece che è stata interrotta come vi dicevo per l'incidente tra Ghiotto e Eitken vede la prima vittoria del cinese Guan Yu Zhou in Formula 2 è anche la prima vittoria cinese in questa categoria per Guan Yu Zhou suona l'inno nazionale cinese che è la marcia dei volontari che per la cronaca non è neanche un inno bellissimo da sentire musicalmente seconda posizione per il russo Nikita Mazepin che dunque anche lui giustifica una seconda parte di stagione veramente interessante terza posizione per Mick Schumacher al netto della costanza che ho detto prima certo Mick Schumacher è uno dei possibili papabili contendenti per l'Alfa Romeo in Formula 1 è vero verrebbe in Formula 1 anche per il cognome che porta ed essendo figlio di Michael Schumacher è una questione di marketing clamorosa avere il figlio in Formula 1 anche se non vale neanche un terzo di quello che vale il padre ripeto è un pilota costante certo in Formula 1 è tutta un'altra musica e vedremo se veramente arriverà nel campionato che conta l'anno prossimo Formula 2 che arriverà in Bahrain tra due mesi per i due appuntamenti finali con quattro gara dalla fine ci sono evidentemente due piloti prevalentemente in corsa Mick Schumacher e Carlo Milot entrambi del Ferrari Junior Team fatemi sapere dunque cosa ne pensate di questo racing pack sia per Formula 1 che per quanto riguarda la Formula 2 vi lascio con il podio della Formula 1 con Bottas primo Verstappen secondo e Hamilton terzo che non è uguale al record di Schumacher e ci tenterà al Nürburgring la programmazione del mio canale sarà la seguente domani non parleremo di motori ma parleremo di Major League Baseball perché stasera finisce la regular season e dal 29 di settembre ci sarà nel playoff e dunque arriverà il mio tabellone con i pronostici dedicati martedì parleremo del moto mondiale che ha corso oggi a Barcellona quindi rimettete sempre attenzione sul canale sportivo e mi raccomando iscrivetevi se ancora non l'avete fatto il saluto da parte di MettoTog e noi ci vediamo presto a un prossimo video a un prossimo video